La Fiesta vende bene, benissimo, è l'auto straniera preferita dagli italiani. Dopo 4 anni, però, una rifrescata non fa male a nessuno. Ecco dunque il frontale stile Aston Martin, il 1000 EcoBoost, 3 cilindri turbo benzina da 80 a 100 CV e 9 plastiche nell'abitacolo. Le innovazioni riguardano anche la tecnologia, tra queste la Ford MyKey, la chiave di sicurezza per i figli con cui programmare velocità massima, volume dello stereo e controlli elettronici e il dispositivo antitamponamento optional a 250 euro. Al volante il 1000 da 100 CV evidenza subito elasticità e allungo e alla fine del nostro test prettamente urbano, ha fatto segnare una percorrenza di circa 13,5 Km per un litro. Quanto ai prezzi? Si va dagli 11.750 euro della 1200, 60 CV a tre porte, ai 17.000 euro della 1600 TDCA in 95 CV a 5 porte e in allestimento Titanium. Il prezzo della 1000 EcoBoost varia invece tra i 12.500 euro della tre porte base e i 14.750 della Titanium a 5 porte.